Questi sono i nomi del comandante che stava spuntando, quelli che mancavano all'appello e man mano che venivano ritrovati venivano calcellati, queste sono delle varie batterie. È il foglio simbolo della tragedia che si è consumata nella caserma Goi Pantanali di Gemona la sera del 6 maggio 1976. Escritti sono alcuni nomi dei giovani alpini di Dileva rimasti sotto alle macerie del terremoto, ragazzi che verranno ricordati anche domenica prossima nel corso del decimo raduno del battaglione Gemona. Questa è la palazzina del gruppo Conegliano che metà è collata di un piano, metà è rimasta su e l'altra metà è andata giù tutta. A raccontarci questa storia è Alessandro Cenedese, consigliere della sezione alpini di Conegliano, che domenica prossima parteciperà al raduno di Gemona. Io Gemona ce l'ho sul cuore, di là che ho tanti amici, il terremoto ha lasciato un grande segno, un grosso segno, però ci ha legato con questa squadra di amici che ci troviamo, con Militoni, che ci troviamo tutti gli anni in caserma, per noi è un ritrovo, ritrovarsi, mi sento un po' a casa mia. E le foto raccontano quei mesi prima del sisma, la camerata tra vece e boce, tra scherzi e brande, in una giovinezza che diventò subito età adulta quando il sisma rase al suolo tutto. Non ti dico cosa abbiamo visto strada facendo perché tutte le murette di recensione, di sassi, di pietra, colate, sembravano spianate con la ruspa in mezzo all'asfalto, facevano le gighezac per poter passare, la gente in mezzo alla strada che chiedeva aiuto e che piangeva e non sapevamo inerti, non sapevamo cosa fare. È lì che proprio gli alpini misero in campo la loro meglio gioventù. C'era un camion di cisterna da portare acqua ai civili su Gemona, non alta perché non si poteva entrare, e nessuno sapeva guidare questo camion civile. Io che lo facevo per mestiere mi hanno cercato e sono andato accompagnato dai carabinieri, ha portato su questa cisterna di acqua potabile. Non ti dico cosa ho visto in quei, gente che si strappava i capelli, che piangeva, che urlava, vedeva il sangue, una cosa allucinante veramente che me la porto ancora dietro, ancora oggi. Per questo ogni anno Alessandro Cenedese si reca a lago i Pantanali, in una sorta di pellegrinaggio a quello che per molti è uno dei santuari degli alpini. Caserma che domenica verrà raggiunta dal treno del ricordo che partirà da Treviso. È più un ricordo dei vent'anni oppure il dramma che si è vissuto quando si rientra dentro quella caserma? Ma il dramma più che altro, è il dramma che ci ha lasciato un grosso segno comunque.